Ascoltate, la torta non è ancora pronta, quindi avete il tempo di giocare un po', bambini. Per questa occasione vi permetto di fare tutto il chiasso che volete. Quando si fanno regali, non ha alcuna importanza quanto essi siano stati pagati, è questo ciò che io penso. I fiori che Nello ha portato da Louise sono stati raccolti oggi dal signor Johan. È vero, sono piccoli, tuttavia in essi c'è un grande, grande sentimento d'amore, signor Bowman. No, non solo nei fiori del piccolo Nello si trova questo grande sentimento d'amore, ma nei doni di tutti loro, anche se sono piccole cose. Tesoro, è successo un guaio, Louise è scomparsa. Caro Patrash, ti ringrazio. Nello, ci hai salvato. Quando tornerà mio marito vedrai come sarà contento. Ah, Nello, non puoi sapere quanto ti sono grata.